Salve a tutti, sono Marco e ho fatto l'esperienza in Samarkand, descrivo la mia esperienza nella Samarkand Academy come un'esperienza molto consigliata innanzitutto per tutti, è molto comunque allegra, felice, è un'opportunità per crescere per se stessi e conoscere gli altri, diciamo che mi ha spinto comunque a diventare un giovane di Samarkand, l'opportunità comunque che ci offrono i coach di imparare comunque nuove tecniche, nuovi sport oppure comunque migliorare ciò che sappiamo come ad esempio io che sono istruttore di nuoto quindi sto andando a insegnare nuoto nel villaggio in cui hanno scelto loro per me. Per quanto riguarda la mia esperienza nel villaggio io immagino un'esperienza molto diciamo molto aperta e molto comunque vivace perché secondo me il joiner deve trasmettere appunto gioia e basta. Ciao a tutti!